Hola todos Vapers, bentornati all'angolo dello svapo, qui come sempre c'è DJ Vise siamo pronti per andare a vedere il secondo video sul monopolio contro lo svapo sappiamo che oggi è una data importante perché comunque c'è stata la protesta di tutti noi Vapers a Roma contro il monopolio, magari per andare a discutere e trattare un po' queste leggi e niente, io vi lascio il video che è l'esperimento un esperimento condotto da un'università di Catania e andiamo a venirci ragazzi insieme e ve lo racconto un po' per le buone semplificando anche quello che hanno scritto quindi ci vediamo dopo il video, ciao belli tre diversi sottogruppi nel primo sono utilizzatori di sigarette elettroniche ex fumatori da almeno 3 anni sono 108 soggetti tra questi il 96% ha dichiarato di percepire un miglioramento nelle proprie condizioni di salute e il 61,8% ha affermato di aver risolto del tutto problemi riscontrati quando erano fumatori quindi hanno risolto i problemi di pressione alta, bronchiti, problemi e patologie respiratorie e palpitazioni e problemi al cuore il secondo sottogruppo sono dei soggetti che non hanno mai fumato in vita loro ma hanno cominciato a utilizzare la sigaretta elettronica dal nulla e hanno dichiarato di non aver avuto problemi di salute legati all'utilizzo della sigaretta elettronica questo va contro la teoria del gateway che ora andremo a vedere che cos'è la teoria del gateway mentre il terzo sottogruppo sono gli utilizzatori di sigaretta elettronica ex fumatori che non hanno mai avuto problemi di salute legati al fumo 136 soggetti solamente uno di questi ha dichiarato di aver avuto problemi utilizzando la sigaretta elettronica ora invece parliamo del gateway ok questo esperimento ha dato la conferma di uno studio e in più ha aggiunto un sondaggio molto interessante gli effetti riscontrati dai vapers che non arrivano a una storia progressa da fumatore con effetto gateway che è l'effetto porta d'accesso si intende la potenzialità della sigaretta elettronica di attirare le persone mai state fumatrici e con il tempo farle iniziare a fumare ma non sigarette elettroniche ma ben sigarette normali tale lavoro quindi questo esperimento rileva una percentuale molto bassa l'1,7% dei tre sottogruppi che abbiamo detto è passato prima dalla sigaretta elettronica per poi passare al fumo quindi l'1,7% e quindi eccoci qua ragazzi abbiamo visto cos'è l'effetto gateway che cazzo ho in testa abbiamo visto che cos'è l'effetto gateway quindi cari politici non vi preoccupate che l'effetto gateway succede solo all'1,7% dei vapers quindi questo vuol dire che se su 100 vapers ad esempio 100 vapers che svapano solo 1 vapers quasi 2 vapers su 100 torneranno a fumare sigarette a combustione quindi non vi preoccupate che questo non succederà sarà questa la vostra preoccupazione che le sigarette elettroniche portassero al fumo a combustione non succede quindi vedete che queste cose non servono non serve andare ad arrampicarsi sugli specchi dicendo che la paura di per voi è che queste facciano tornare alle sigarette perché sono grandi stronzate quindi ragazzi dall'angolo dello swap è tutto oggi abbiamo parlato dell'effetto gateway spero che il video vi sia piaciuto e ovviamente lasciate un bel mi piace condividete il video se vi è piaciuto vi invito ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto dall'angolo dello swap è tutto DJ Vise conclude quindi buona swap a tutti ragazzi grazie grazie grazie